Ben tornati a SOS Rezzo TV, cominciamo con delle date, qui abbiamo un contratto 25 marzo 2011, importo dei lavori quasi 900 mila euro che poi diventano 974, inizio lavori 9,5 e 2 mila euro, cioè un canteria che doveva durare inizialmente, perché poi qualcuno aveva tentato di nascondere la fine dei lavori, un canteria che doveva durare 5 mesi nel 2011, 5 anni, è la moltiplicazione dei pani e dei lavori, siamo oltre 5 anni, quasi un paio di mesi più, istrutturazione palazzina all'atto oeste, ex caserma caduola, alta sorveglianza, alta, alta, passaggiorni storici artistici, etno-antropologici, direzze provincia, Altissima, purissima, come vedi? Ci sono le tecnici che sono in pensione, non ci sono più, sì, sì. Le ali delle tue idee, le ali, regione Toscana, creo, fondi europei, i famosi fondi europei che l'Italia sai che... Non li prende mai. O non li prende, o forse li prende e poi non li usa, non si sa. Esatto. Fondo europeo di sviluppo regionale, programma operativo regionale obiettivo, competitività regionale occupazionale. Insomma, non si sa poi cosa doveva esserci qui in questo cantiere. Sta di fatto che qui è tutto... Ma c'era il famoso discorso qui del Pius, perché qui era un affitto alla provincia di Rezio e c'erano le scuole medie. Lì c'è scritto Piego della Francesca. C'erano le scuole superiori e era un affitto. Dopodiché penso che la provincia, no, non penso, la provincia l'ha lasciato. E qui doveva venirci il famoso, finanziato dal Pius, scuola, come si può dire, delle arti sull'abbigliamento. Il design, quello dovevi dire fuori. Poi invece qui è tutto morto, tutto fermo. L'impresa a Lucci Salvatore. Il famoso Pius, soldi a Valanga, dove sono finiti? Cioè alcuni sono stati finanziati, la portata, tantezza, tante cose. Qui le loggie del grano sono stati finanziati. Qui come mai? Qui non so, perché sicuramente il progetto che era stato fatto non è andato avanti poi per quanto riguarda la sua realizzazione. E quindi si è fermata anche la ristrutturazione. Come puoi vedere qui ci sono dei sacchi del cantiere avanzati. Qui è chiuso da tanto tempo. È ormai dal 2011. Da quando dovevano essere finiti i lavori. Da cinque anni, vedi, è completamente chiuso. È un pezzo monco qui della zona. Come tante cose in questa piazza ex Amintore Fanfani, no? Ci sono delle cose tipo Sportello Unico che hanno fatto una bella cosa, a riunire tutto lì. No? Non sei contento? Chi ha inventato? Sì. Grazie. L'ha inventato lui, signori. Facciamolo vedere. Perché è lui che l'ha inventato. L'ha inventato lui, lo Sportello Unico. In tutta Italia. Scusi, quando saluto le signorine ce le può anche presentare, per favore? Non gli facciamo mica del male. Ha fatto il ritardo nell'inquadratura perché giustamente bisogna, ci sono delle relazioni da mantenere, no? Comunque, torniamo a noi. Hai inventato lo Sportello Unico in tutta Italia, giusto? Non lo so, io l'ho inventato da Arezzo. Detti da Dringoli di portare avanti questo progetto e Dringoli l'ha portato avanti. E ha fatto questa bella operazione. Perché non l'hai portato avanti anche qui? Tu non c'eri più in provincia. C'eri nel 2011? No. No, hai già andato via. Oh, sono passati tanti anni però. Sì. Comunque, vedi qui tutta la vegetazione, tutto chiuso qui, come direbbe qualcuno. L'erba nasce. Pezzi di cantiere rimasti dentro. E insomma, è diventato talmente familiare questo cantiere che non ci avevamo neanche fatto caso le altre volte che avevamo venuti qui, è vero? Eh sì, fa parte ormai dell'arredo, no? Questo dimostra davvero che questi cantieri... Perché poi oltre a questo c'è anche l'ala di sotto da mettere a posto che l'università l'ha lasciata e quindi è completamente vuota. Anche quelle sono aule che potranno essere utilizzate per scopi diversi. Cioè, non so se implementare altri uffici dell'amministrazione comunale che tuttora sono decentralizzati, vedi l'urbanistica, l'edilizia, e portare tutto qui in modo tale che il cittadino vede qui e trova tutto. È più decentrato, non c'è da andare su in comune, ZTL, Cavalivare, quindi invece non c'è niente, può entrare quando vuole, c'è il perché già di posizione, quindi sicuramente io spingerei, se vuostra amministrazione, a portare tutto qui e a vendere tutto il resto. Sì. A vendere l'ultima proprietà migliare. Tanto qui che ci fai, no? Tanto per vendere il costo ne basta, quindi a questo punto qui anche Piazza San Domenico, portarlo tutto qua, in modo tale vendi Piazza San Domenico, vendi via, come si chiama, via Cisalpino, l'ex Banca d'Italia, vendi un po' tutti quelli che sono via degli albergotti e altre unità, le vendi tutte, cerchi di venderle tutte, in modo tale che fai entrare dei soldi, ristrutturi questa cosa e dai un servizio completo al cittadino. Sennò rimane tutto così e ci resta da capire questi fondi europei dove sono finiti. Ma ci resta da capire quando finiscono questi lavori. Eh sì, appunto lo capisci quando ritornerà il fondo europeo. Ah, va bene. Oppure il fondo europeo prevedeva magari una partecipazione del comune che non c'è più, magari era un cofinanziamento. No, sicuramente sì. Il 50% l'obministrazione comunale, il 50% la fonda europea. E allora la presente amministrazione il 50% non l'ha mai messo. Non lo so, dobbiamo andare a vedere. Eh. Andiamo a verificare. A bilancio c'erano tutti. A bilancio c'erano? Nel 2010 c'erano tutti. Che scelite a controllare, a vigilare. Poi dopo lo sai, su questo, anche visto il mercato l'autofurticolo, anche quello è rimasto fermo, con il polo digitale, non lo so. Però sai che nella variazione del piano opere pubbliche, non so se questo era, perché c'era un elenco lungo, non so se questo c'era, non mi sembra l'avano letto. Però il polo digitale, la rotatoria di via Fiorentina e la stazione sono rientrati. Ah, meno male che la rotatoria di Fiorentina ce l'ha messa. Però sai che ogni anno la variazione è fatta per essere variata. Ogni anno non si sa cosa. Bisogna dire se viene finanziata. Esatto, perché per variare si fa la svetta. Poi si trova le fonti ipotetiche, poi se le fonti ipotetiche non ci sono, si cancella. Va bene, da questo splendido edificio e i fondi europei che non si sa se ci sono mai arrivati, non sono arrivati, dove sono finiti, da Piazza Ex, Piazza Cadorna, nonché a Minto e Fanfani, a domani. Ciao.